Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora oggi volevo parlarvi di una trovata universitaria, qui addirittura si parla, voglio precisarlo, di Cambridge e questa trovata è probabilmente degna della mente più cretina al mondo. Bene, se io vi dicessi che i collant mai più sulle gambe ma sul viso, probabilmente alcuni di voi mi prenderebbero per pazza, ma effettivamente è questo che è accaduto perché lì a Cambridge hanno avviato uno studio e hanno cercato proprio uno studio sui bavagli perché come ben sapete stanno uscendo tantissime prove che vanno a sottoscrivere il fatto che questi bavagli in realtà non ci proteggono dalla trasmissione di questo male e veramente sono stati pubblicati tantissimi studi e cercare comunque di chiudere gli occhi o tapparsi le orecchie dinanzi all'ovvietà dei fatti è veramente una cosa triste, per non dire ridicola. E quindi loro hanno deciso comunque di investigare e si sono detti bene, come possiamo fare per cercare di rendere questi bavagli più comunque validi? Come possiamo convincere le persone a mantenere il bavaglio? Come possiamo convincerli del fatto che effettivamente i bavagli possono proteggerci dalla trasmissione di ogni male? Hanno ben pensato di fare dei tentativi utilizzando degli elastici, del nastro adesivo e perché no anche i collant e quindi su un gruppo di volontari presi probabilmente proprio da quell'ambiente universitario hanno cominciato a mettere questi bavagli e sopra i bavagli hanno cominciato a mettere a queste persone tipo dei pezzi di collant, infatti ci sono delle immagini che fanno veramente veramente ridere, questa notizia la potete secondo me trovare andando a digitare in qualsiasi motore di ricerca le frasi o meglio le parole chiavi, quindi collant, Cambridge, bavaglio insomma. Questa notizia io l'ho letta su Infowars però ho visto che c'è anche su altri siti e quindi hanno cominciato a testare queste cose su alcuni volontari e la cosa è agghiacciante, fa veramente ridere, hanno pubblicato pure le foto di un manichino che ha un bavaglio e sopra dei collant. Ben presto però queste menti veramente, queste menti dall'intelligenza acuta, si sono accorte che, veramente mi sembra di raccontare una barzelletta, si sono accorte che l'elastico dei collant stringeva sulla faccia e quindi hanno detto non se ne fa niente ma hanno lasciato l'umanità con la promessa di tentare e di studiare un altro modo per rendere più efficaci questi bavagli. Ora ci troviamo in una situazione di crisi totale in tutto il mondo in cui le persone hanno perso il lavoro, i beni di prima necessità hanno subito un aumento del prezzo, ci sono persone che fino a ieri lavoravano, oggi invece vivono per la strada, ci sono persone che hanno perso la loro casa, la loro auto, ci sono persone che hanno dovuto allontanarsi dalla loro famiglia, ci sono persone di ogni tipo, tragedie di ogni tipo, storie di ogni tipo, ormai davvero la gente vive nella disperazione più totale e tra l'altro c'è anche questa crisi economica che minaccia la vita di tutti quanti nel mondo. Che cosa fanno? Che cosa pensano di fare? Pensano di deliziarci con queste notizie che farebbero veramente ridere la persona più seria al mondo, veramente farebbero ridere la persona più seria al mondo perché in uno scenario davvero futuristico sembra di essere precipitati in uno di quei film distopici che comunque ci mostrano una realtà che probabilmente qualche anno fa ci sembrava lontana dalla nostra ma adesso mi sembra quanto mai vicina, quindi siamo precipitati praticamente in uno di quei film che fino all'anno scorso o meglio fino a qualche anno fa guardavamo con i popcorn e questi invece di dare delle risposte effettive o comunque invece di dichiarare il vero e che quindi questi bavani non protengono da un bel niente, si mettono a fare queste sciocchezze, si mettono a fare queste stupide sperimentazioni con l'intento di fare che cosa? Far uscire le persone di casa con dei collant sulla faccia, ma veramente siamo arrivati ad un punto così drastico, ad un punto in cui la scemenza sta dilagando ad un passo proprio, lo so, quasi irraggiungibile? Le persone muoiono di fame, muoiono perché non hanno più nemmeno i soldi per comprarsi una bottiglietta d'acqua, le persone che fino a ieri avevano un lavoro dignitoso stanno a fare l'elemosina anche per due spicci e invece loro che cosa fanno? Fanno queste sperimentazioni veramente stupide e poi alla fine si accorgono che ah no sì ma l'elastico dei collant stringe troppo, addirittura lo scotch sui bavagli, ma io veramente ormai ho smesso di combattere contro la stupidità, ormai ho deciso proprio io di smetterla, di combattere con una mente che non vuole essere risvegliata, ho deciso di non combattere più con persone che proprio non ne vogliono sapere niente di una versione di questo mondo più pulita, più amorevole e più dignitosa, anche perché comunque ben presto saranno loro i primi ad accorgersi del fatto che stanno contribuendo a forgiare un mondo in cui ci ritroveremo tutti ad essere degli strani, ci ritroveremo tutti a sentirci degli estranei, perché adesso magari è facile insultare chi non fa l'iniezione aditandolo come il male peggiore, però tra qualche anno io vi voglio vedere, tra qualche anno quando addirittura verranno pubblicate determinate documentazioni sui gravi rischi che le persone corrono andando a fare queste iniezioni, io lì vi voglio vedere se avrete ancora il coraggio di riderci in faccia, se avrete ancora il coraggio di applaudire al mondo che avete voi stesso contribuito, voi stessi contribuito a creare, perché qua si pensa tanto all'insulto, si pensa tanto all'etichetta e non si pensa al fatto che in questo mondo attualmente ci sono tantissime persone senza un tetto sulla testa, ci sono tantissime persone senza un tetto sulla testa e invece loro a Cambridge addirittura pensano a mettere dei collant sui bavalli per renderli un pochetto più utili. Tra l'altro poi non parliamo nemmeno delle persone che si tappano completamente gli occhi e le orecchie, non volendo sentirne nulla anche dei casi che stanno purtroppo andando a ferire tantissime persone nel post iniezione e poi parlare, 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 puoi stare lì a consigliare, ma tanto queste persone come se avessero ormai dei tappi, dei tappi nelle orecchie e non intendono sentire nient'altro. Ora io vi chiedo se è normale, se secondo voi è normale fare questi studi ridicoli che non portano veramente a nulla, cioè veramente i bavalli non proteggono, questa cosa è stata ormai dichiarata da tempo anche se loro si ostinano a dire che no, non è così. Pensate un po' addirittura in America i politici, ma anche lo stesso Fauci aveva consigliato in casa alle famiglie di utilizzare il doppio bavaglio in presenza di persone comunque non iniettate, quindi non più uno ma due. Già con uno molte persone si sono sentite male perché hanno avuto gravi problemi respiratori, figuriamoci con due, cioè proprio lì a stare strozzati e soffocati, e vabbè, questo per loro è tutto normale. Costringere per loro è normale, obbligare per loro è normale, tra l'altro lì è veramente una questione di, non lo so, di scegliere qual è la mente più stolta rispetto all'altra e il fatto che ancora si sentono dichiarazioni da parte di personaggi che non fanno altro che creare questo panico, non fanno altro che diffondere disinformazione, fa veramente venire i brividi, fa veramente venire i brividi perché non so di questo passo dove andremo a finire. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa loro invenzione, di questo loro studio, del fatto che vogliono con tutto il loro cuore cercare di trovare un metodo per rendere efficaci questi bavagli e addirittura abbiano tentato di farlo con dei collant. E la mia faccia dice tutto. Insomma fatemi sapere tutto quello che volete, io vi auguro un buon proseguimento di giornata e noi ci vediamo alla prossima.